Oggi alle tre al castello un nuovo incontro con Maurizio Galimberti che è protagonista nella cattedrale di Sant'Evasio con Tributo a Leonardo. Sarà un incontro molto interessante perché parlerà di questa svolta della sua ricerca dal sacro alla storia, quindi lo sguardo sulla storia e la sua attenzione verso il sacro. Quindi siete invitati, vi aspettiamo, sarà un incontro molto interessante, poi con visita guidata dell'artista e si torna in Duomo e a questo punto vi lascerei a questa bellissima intervista che è stata fatta in cui l'autista Maurizio Galimberti parla del suo Tributo a Leonardo proprio nell'atrio del Duomo. Sono Maurizio Galimberti, siamo qui alla Biennale di fotografia Le forme del tempo, curata tra altre cose dagli amici Maria Teresa Ceretelli con Luciano Bobba e in questo bellissimo Duomo di Casale Monferrato c'è ospitata la mia mostra sul Cenacolo. Mostra sul Cenacolo che nasce così da un'intima necessità di raccontare il Cenacolo nel 2018, da una chiacchierata con l'amico collezionista Paolo Ludovici il quale poi ha tenuto la maggior parte del lavoro e così mi piacerebbe raccontare brevemente questo progetto. Questo progetto quindi nasce da un'intima necessità, da un intimo desiderio di raccontare, di confrontarsi con il Cenacolo. Cenacolo che è stato raccontato da tantissimi artisti, in primi Sandy Warhol e Peter Greenway e quindi che dire, per forza un artista si deve confrontare col Cenacolo. Poi con la mia tecnica Polaroid Fuji sicuramente è molto molto interessante. Teniamo conto che Polaroid negli anni 80-90 quando fecero il restauro del Cenacolo. Già fecero un bellissimo lavoro sul Cenacolo Vinciano di Milano durante proprio il restauro e anzi fecero tutta la classificazione delle opere eccetera eccetera grazie alla tecnica della fotografia istantanea. Nel caso specifico la era Polaroid mentre nel mio caso ci sono tantissime Fuji. Questo è un lavoro un po' che traghetta il mio vecchio linguaggio Polaroid con il mio nuovo linguaggio Fuji. In Polaroid abbiamo queste 50-60 Jan Camera che possiamo vedere qui alle mie spalle. Abbiamo la lastra in transfer originale e eccola qua. Io dico che c'è il sangue perché mi piace questa materia che sembra veramente sangue. Questo in particolare non è l'originale ma è una edizione unica uno a uno dell'originale perché per problemi di umidità ma anche per problemi di diciamo di collezionismo che era in una casa esposto eccetera eccetera abbiamo preferito portare qua delle coppie uno a uno al vero originali unici. Questo come nasce? Questo nasce perché quando tu scatti con la Jan Camera ci allora innanzitutto non ho fotografato il Cenacolo dal vero perché perché praticamente era impossibile. È un luogo molto buio e con la mia tecnica del mosaico sarebbe stato impossibile avvicinarsi alla fresco. Quindi io ho acquistato i diritti dall'archivio Scala di Firenze, credo che mi ha speso sui 4-5 mila euro non ricordo, per riprodurre una stampa fotografica dal vero del Cenacolo largo 8-40 e noi l'abbiamo fatto poi alto 140 quindi abbiamo tenuto sopra la finestra alla fine della tovaglia in bandita, della tavola in bandita e ho diviso in 1, 2, 3, 4, 5, 6 pannelli. Vedete questa è proprio la divisione che ho fatto io dell'affresco dove ovviamente gli apostoli e anche Gesù Cristo si ripete proprio per dare movimento, slancio, dinamicità al lavoro. Poi cosa ho fatto? Ho fatto stampare questi 6 grandi pannelli e li ho fotografati con tutte le mie tecniche quindi con il mosaico e anche ovviamente con la Polaroid 50-60 e qui stiamo parlando di Polaroid 50-60, Gian Camera 50-60. Ce ne sono 4 al mondo, una è a Milano da Photomovie in via Ranzoni, una macchina pazzesca molto amata da Andy Warhol, ce ne sono poi 2 in Germania e ce ne è una a New York. Che dire? Allora quando tu fai la foto e poi l'originale una volta fotografato l'ho regalato alla Cometa di Como, questa casa di accoglienza dei bambini in difficoltà e l'hanno esposto nel refettorio ed è magnifico perché il Cenacolo è tornato veramente, nel mio Cenacolo è tornato in un refettorio di una casa per poveri o per persone in difficoltà come può essere la Cometa di Como. Quindi qui cosa ho fatto? Con la Gian Camera 50-60 ho fotografato il pannello, ho fotografato il mosaico e praticamente appena fatto lo scatto quando il rullo scende si mette nello sviluppatore, dopo che è stato sviluppato, se vi ricordate qualcuno di voi spettatori sicuramente si ricorda quando andavi a fare la fototessera che tenevano lì la pellicola due minuti, la agitavano un po', poi l'aprivano e la buttavano via. No, la matrice si buttava via e l'originale te lo davano previo pagamento di 3.000 lire che era il costo della fototessera, dove magari c'eri quattro volte sulla stessa foto, poi lo tagliavano ed eri pronto per essere schedato per lo Stato italiano. In questo caso una volta sviluppato, quindi che è pronto per essere spellicolato, si apre subito, quindi tutto il chimico invece che finire sulla carta resta sulla matrice che è questa, tutto il chimico resta sulla matrice e allora cosa si fa? Si prende questo foglio, si appoggia, quindi questa matrice si appoggia su un foglio di carta bagnato 300% fabriano, cotone, su un tavolo, poi si rulla per tre minuti e cosa succede? Succede che tutto il chimico dalla carta, dalla matrice, si sviluppa e lo vediamo di qui sulla carta, infatti se guardiamo il colore è tutto qui e non è lì. E questa è la bellezza, no? Questo qui è il colore perché praticamente tutto il chimico è stato, diciamo, trasferito su questa carta da disegno 100% fabriano. La cosa bella è che l'effetto è molto pittorico, mentre là abbiamo l'effetto della sinopia, qui abbiamo quasi l'effetto dell'affresco e nessuno potrebbe vietare di credere che questo, se messo in un contesto un po' più, diciamo, ruffiano, potrebbe quasi sembrare davvero un affresco perché qui lo vediamo che è una cornice, ma potrebbe essere anche un affresco staccato dal muro. Io trovo che ha un risultato delizioso, poi siccome volevo così proprio raccontare anche la mia progettualità, volutamente ho lasciato, vedete, le misure delle fotografie che avevo suddiviso per fare i famosi sei pannelli. Quindi qui gli aspostoli crescono, si moltiplicano e qui entra dentro il mio discorso di fotografia futurista d'Ushampiana, quindi creare movimento, dare agli oggetti linee dinamiche, prolungamento di ritmi, creare una sensazione di movimento cinetico. Ecco, quindi questo è il mio cenacolo, questo forse per me è il lavoro più bello perché davvero ha un sangue, io dico sempre che ha un sangue e qui davvero questa materia, questo sporco, io lo trovo veramente incredibile e commovente, cioè qualcosa veramente di religioso e commovente. Quindi una fotografia unica e ripetibile e poi se guardiamo un po' come siamo noi stessi, possiamo pensare che un giorno siamo così, quindi siamo pieni di colore o il giorno dopo, magari un altro giorno, magari quando piove, è brutto tempo, noi siamo così, siamo più trasparenti, siamo più anima, questa mi sembra veramente l'anima del cenacolo, potrei quasi dire che potrebbe essere il cenacolo prima del restauro e dopo il restauro. no, quindi ancora una volta la fotografia istantanea è magia, è creatività ed è rigore progettuale.